MILLENARIUM L'idea è nata constatando che c'erano alcune piante del territorio ostunese, in particolare le due che si trovano in Masseria Morrone e Masseria Livrani, che avevano tra i 1000 e i 2000 anni di storia. C'erano due piante che avevano visto tutto ciò che del dopo Cristo è avvenuto nel mondo e diciamo è il caso che Ostuni si lega con la magnificenza del suo olio, con la magnificenza del suo territorio e con la magnificenza della storia e creiamo quando l'olio si fa storia e nacque la prima edizione MILLENARIUM. L'Oscar della città bianca, così come molti lo hanno ribattezzato per la forma della bottiglia, acquista una nuova veste grafica con particolare attenzione alla semplicità e l'essenzialità, quasi a ricordare i valori fondamentali della civiltà contadina di un tempo. L'oro verde in contrasto ma in sinergia con il bianco della città. Alla bottiglia si affianca un opuscolo informativo che riporta le informazioni sulle aziende agricole dove dimora la pianta, foto dell'olivo millenario e coordinate GPS per quanti volessero immortalare queste vere e proprie cattedrali della natura. Il comune di Ostuni è stato il primo comune in Puglia a tutelare la pianta di olivo secolare. A noi aziende del territorio spetta nobilitare questa scelta, portarla avanti e renderla viva. Quindi come cooperativa più rappresentativa del territorio, 400 produttori che da più di 50 anni si divertono con passione a fare olio, era un dovere avere questa sinergia con l'amministrazione comunale per fare un prodotto simbolo e abbinare la città bianca con l'oro verde. In modo da giocare anche un contrasto di colori ma anche di gusti e di passioni che dopo un periodo di vacanza a Ostuni si riporta a casa e ogni fortunato visitatore della città bianca riesce tranquillamente ad apprezzarne la qualità. Millenarium risulta dunque una bellissima iniziativa di marketing territoriale voluta fortemente dal comune di Ostuni e dal sindaco Domenico Tanzarella.